Il Gran Sasso ha chiuso quella che è stata definita la stagione più disastrosa degli ultimi vent'anni. Con il pieno di sciatori, il sole a picco sulle piste e bene innevate, gli impianti di risalita hanno chiuso i battenti per questa stagione. Una stagione da dimenticare, dice Luigi Faccia della scuola sci, una serie infinita di imprevisti che ha fatto ritardare l'apertura della stazione, prima per mancanza di neve, poi per la neve abbondante e il terremoto, che sono stati la causa scatenante delle valanghe che hanno interrotto la linea elettrica che alimentava la stazione stessa e quindi è stata rinterrotta. A seguire il problema della mancanza di acqua a causa del congelamento della tubazione volante che, dalla sorgente scontrone, alimentava il serbatoio a monte delle strutture ricettive. Una serie di problemi tecnici sulla seggiovia Fontari hanno poi imposto una serie di stop alla stagione invernale che appunto si è appena conclusa. Ieri, il 25 aprile, è stato l'ultimo giorno di funzionamento per la seggiovia Fontari e l'ultimo giorno di servizio al banco di manovra per Paolo Barone, che per 23 anni ha condiviso gioie e dolori come macchinista. Oggi si stacca la spina ad una stagione disastrosa, vergognosa, da terzo mondo. Usciamo da questo incubo con le ossa rotte e senza speranza. Commenta ancora su Facebook il direttore della scuola sci di Assergi Granzasso, Luigi Faccia.